e ciao a tutti ragazzi e bentornati qui di nuovo su un video di fortnite oggi contro il gatto che qua dietro guardate che è lì che non fa niente e senza distruggere la scrivania comunque oggi proviamo ho messo la partita in singolo perché tanto in gruppo la pomena dove per via per i fatti miei e quindi tanto vale giocare in singola no vediamo siamo cento siamo cento tutti contro tutti praticamente vediamo di campare più possibile e vediamo come come fare sicuramente noi dovremmo andare qua andiamo qua lo squalo perché ci dovrebbe essere un lutto interessante non ci sono mai stato se ci sono stato ma non ci sono più andato c'è un lutto sicuramente interessante quanto ho sentito quindi ci organizziamo probabilmente ci sarà un bordello di gente che ci andrà vediamo non so di preciso bene quando saltare proviamo a saltare adesso e andiamo giù a manetta vediamo se ci arriviamo eccolo lì c'è già gente teoria sulla testa dello squadro ci dovrebbe essere una cassa guardate là c'è già gente c'è già gente ci sono i scagnozzi bot scoperto che si chiamano bot comunque andiamo di aggiudicarci per primi questa cassa pensavo di meglio sinceramente sinceramente pensavo di meglio poi diamo un attimo ok luttiamo un po' di materiale e via ragazzi c'è già un bordello di gente questa non era previsto questo non era previsto dobbiamo tornare su ma come c'è un ingresso qua per caso si che c'è un ingresso altro che che c'è un ingresso se riusciamo a salire ok no raga abbiamo zero vita praticamente e la safe è distante non ho mai provato a pescare fammi provare non so neanche cosa si pesca sinceramente ah questo è già saluta vabbè noi dobbiamo scappare dalla safe in fretta possibile quindi via riporta dove sta andando quella troppo è là troppo è là vediamo qua cosa c'è uno due un po' di munizioni ok questo ce lo fumiamo tutto subito un po' di materiale che male non ci fa quasi quasi ne approfitto per prendere più materiale possibile finché siamo in safe ragazzi è qua ragazzi arriva non capisco è già arrivato o deve arrivare no andate ragazzi quella subito che è festini buongiorno 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 fuori uno sicuramente mi avrà sentito quindi ci sarà gente vediamo su tutto del materiale e guarda quanto materiale mi ha fatto sprecare ma quanto mi ha fatto sprecare questa voce infame comunque abbiamo fatto una kill uh è arrivato è arrivato è arrivato il carbobot vediamo qua se c'è qualcosa di importante speriamo di sì uh bella allora il trampolino che l'ultima volta ci poteva salvare la vita un pompa leggendario ci sta ci sta ci sta molto bene e basta questo qua delle bende non ci serve perché abbiamo già tre queste distruggiamo e cancelliamo le tracce che siamo passati di qui e ci allontaniamo dalla zona qua anche se di là potrebbe esserci se ce la facciamo non so se ce la facciamo ce la possiamo fare? ce la possiamo fare? ce la possiamo fare? ce la facciamo? ce la facciamo? grandissimo vediamo qua che cosa abbiamo al posto di questo ci sta bene top adesso prendiamo e ce ne scappiamo via non si riesce più a muoversi di questi tempi ci servono più munizioni ci servono non vedo nessuno nei paraggi comunque sono solo nove siamo rimasti in nove siamo rimasti in nove diciamo che è migliorato parecchio il nostro loot vediamo qua cosa abbiamo scudi lo scudi già ce lo prendiamo al posto di questo guardali là come fightano sarebbe comodo avere un cecchino adesso l'importante è che non arrivi gente da dietro possiamo provare noi a prenderli da dietro non può darsi che arrivi comunque gente da dietro perché siamo proprio al centro della safe noi noi coglioni ci piazziamo sempre al centro della safe riusciamo a prendere il nostro è finito? no guardalo là guardalo là guardalo là l'ho visto guardalo là guardalo là guardalo come ci prova guardalo come ci prova guardalo là adesso riusciamo ad avvicinarlo stiamo attenti alle spalle che non ci sia nessuno là c'è un pacco sospetto che si muove cosa è quel pacco sospetto? hai salto fuori? vaga dobbiamo scappare il safe ragazzi siamo rimasti noi tre siamo rimasti quindi quelli là mentre si fanno fuori io posso avvicinarmi con cautela mi nascondo qua un attimo nel cespuglio ragazzi siamo rimasti in due non lo vedo però eccolo lì trovata 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 vediamo a portarci a casa questa vittoria reale sicuramente è qua vittoria reale guarda cosa aveva guarda cosa aveva è illegale sta roba questi saranno episodi da una partita sola in modo da renderla più ubriosa comunque cioè raga top eravamo messi bene eravamo scudo al 100% eravamo pieni di materiale quindi manca un ciccinino saliamo al 32% quindi prossima partita vediamo come va speriamo di arrivare sempre classificati bene se vinciamo meglio e niente un saluto di trizzante commentate iscrivetevi lasciate dei like e un saluto di trizzante ciao 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 ciao